Miss Cilento 2023, la numero 4, Vincenza! Vincenza Sessa è la nuova Miss Cilento Vallo di Diano e Alburni 2023. La studentessa 21enne di Castellabate ha sbaragliato la concorrenza alla finalissima della ventesima edizione del concorso di bellezza che promuove il territorio e la dieta mediterranea, conquistando la giuria preseduta da Ludovica Lombardi Miss Cilento 2022. La serata, tenutasi a Vallo della Lucania con la conduzione di Vincenza Botti, Miss Cilento 2014 e Volto di Ciao Darwin, è stata aperta con una coreografia di bandiere di vari paesi del mondo, tra le quali campeggiava quell'arcobaleno della pace, tema che quest'estate Miss Cilento ha voluto diffondere durante il suo tour. Vincenza, appassionata di cucina e moda, è arrivata in finale col titolo di Miss Castelnuovo Cilento 2023 e Miss Benvenuti al Sud 2023 e ha conquistato tutti con la sua semplicità e il suo sorriso. Durante la serata, il patron della Kermess, Lino Miraldi, si è detto particolarmente soddisfatto dell'ottima riuscita di questa edizione numero 20. Le Miss finaliste, quasi tutte alla prima esperienza in passerella, hanno subito stretto amicizia tra di loro nelle varie tappe, ha dichiarato. Sono felice perché stanno nascendo nuovi talenti per lo spettacolo nel nostro territorio.